Quanti sono tanti fiori passi, da me ne vedi che la musica la vita, c'è la mente che la vita è calma, tanti passi tra gli santo piatti, questi grandi passi, quelli grandi passi. One go! Tanti fiori, poco del fanno, cercano un lavoro che è molto strano, se c'è un posto che non ci passerai, quando metti i suoi, come cazzo qui! E c'entravi del tuo volo in tempo, se ne erano disegni che nessuno per niente, e da mandarti c'è come stanno, ma poi vedrai! Quando farò di nuovo là giù, questo ragazzo che tornerà al su, se ne estira, conterò di più, il giorno che io tornerò! Sotto l'esterno del caffè, il giorno che io tornerò! Seppatrà, mia città, non mi fa piacata, ma sotto l'esterno del caffè, seppatrà, mia città, non mi fa piacata, ma non mi fa piacata! Sotto l'esterno del caffè, non mi fa piacata, ma non mi fa piacata! Quando sto fuori di nuovo là giù, questo ragazzo che tornerà a su, e Canerota salta su! Sotto l'esterno del caffè, non mi fa piacata, ma 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 non mi fa piacata! Sotto l'esterno del caffè, non mi fa piacata, ma 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 non a tutto l'estazio, al comune, di Camerosa, a me la signora, di chiamare un favore, perché abbiamo fatto queste grosse cose che mi sono ammazzate, pubblicatela su Instagram, come la Stadio, Clementino Live 2018, così me la vado a prendere, a Stadio Clementino Live 2018, un gratissimo saluto a voi, se mi sono piaciuti, quanti sono la sentire? Grazie, numero uno, grazie, e speriamo che mi sono andato dietro, come se mi sono andato dietro, questa, ciò fai lì, ciao!